La campagna elettorale in Bulgaria volge al termine. Nel paese il silenzio elettorale inizierà il prossimo 7 giugno. La Bulgaria si recherà alle urne per il Parlamento europeo e per l'elezione anticipata dell'Assemblea nazionale. Personalità europee di spicco come Ursula von der Leyen e Manfred Weber hanno dato il loro sostegno all'ex primo ministro bulgaro Bojko Borisov. Il paese leggerà 17 eurodeputati e 240 deputati che siederanno al partito unicamerale del paese. Le elezioni nazionali si tengono in un momento di scandali per la corruzione e la propaganda filorussa che hanno preso ampio spazio nel dibattito pubblico. Secondo i sondaggi il partito di estrema destra rinascita potrebbe raggiungere il 15% dei voti. Premahvane na sankciite srešto Russia e compensirane na bologna business защitite. Premahvane na voenata pomocia za Ucraina, come e davane garancia che non devono spratiti bologna ucraina in Ucraina, è a 5-to miastro, predogovarane na osnoviata za cittadinanza di Bulgaria in EU. Tove sono importanti, sufficienti, espliciteli, 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 espliciteli. Secondo i sondaggi il partito liberale Movimento per i diritti e le libertà potrebbe guadagnare il 13,5%. Seguito dalla forza riformista anticorruzione, continuamo il cambiamento Bulgaria-democratica con quasi il 13%.